Benvenuti a questo nuovo video Io sono abitata di sperare che c'è una luce Perché non si vede una ceppa di minchia Ok, fermi tutti Io non trovo l'interruttore The case, no E vabbè, vabbè Oh, non è cambiato Un cazzo Comunque Oggi ragazzi voglio inserire questa Perché è bagnato per terra The fuck E mi metto in piedi sulla sedia Almeno, in piedi Allora ragazzi, allora Questa serie, mini serie Sul portare sul mio canale Che sarebbe Tipo news del canale Perché cosa sto facendo oggi con le mani Non lo so, anche a scuola La prof diceva cosa ho bevuto stamattina Veramente ragazzi Comunque Prima volevo Sare a dirvi un fail Che ho fatto prima di iniziare questo video Praticamente ragazzi Cosa ho fatto? Volevo Perché praticamente Come vi ho già detto Questo Non è il mio solito metodo di registrazione Quindi la fotocamera Che tu c'hai il telefono Vai in fotocamera Pum Clicchi l'icona Della videocamera O della fotocamera In questo caso Dovei cliccare la fotocamera Scusate, non so Sto dando i numeri Videocamera Pum Ti partiva il video E iniziavi a parlare Allora, con quell'altro metodo Che ho installato adesso Cosa succede? Ma porco loca Praticamente cosa succede? Succede che Va un po' a bambera Nel senso Nel senso che ragazzi Che follo Vabbè Nel senso che ragazzi Cosa succede? È successo che Mi va un po' a bambera Nel senso Non c'è Devi cliccare un pulsante Praticamente Il pulsante sia al centro Devi fare così Pum E ti parte automaticamente Questo dovevi stare Solo per la fotocamera Interna Per la fotocamera interna E allora no Ma va un po' a bambera Cioè nel senso Ogni tanto mi registra Ma porco Due Ogni tanto mi registra Il Cioè mi fa il video Ogni tanto mi scatta la foto Allora cos'è successo? È successo praticamente che Cioè Ho cliccato Allora io all'inizio del video Ho fatto così Pum Allora cioè io come un mongoloide Ho fatto così Pum Mi ha scattato la foto Ho visto scritto elaborazione Ho detto per fortuna Che non stavo registrando Non sono un mongolo Perché ve l'ho anche detto Comunque ragazzi Allora Quanto riguarda il canale Ci tenevo comunque A dirvi che Inizierò molto presto Una serie su Minecraft Non su Pocket Edition Perché nel senso Io Dovessi fare una serie Sul Pocket Edition Cioè Capite che sul Pocket Edition Io Sono bravo Sono bravo Grazie No pessima Ma inizierò bensì Una serie Sulla Play Che mi hanno consigliato Un paio di miei amici Non so quanti Tra cui un certo Darkin012 Che Non so quanto Rappirà il canale Non lo so Quindi non vi spoiler Niente Comunque Mi ha detto Sì Albi Fai una serie Sul Su Minecraft Per la Play Ho detto Perché Perché non so I comandi Cioè nel senso Capite che magari C'è una pozza di lava Davanti a me Invece di premere Il pulsante Che va in avanti Prendo il pulsante Quello che serve Per andare indietro Cioè nel senso Mi capite Quindi finisco Nella pozza di lava Come un coglione Se registro Faccio anche Una figura di merda Che passa per internet Tipo scritta Il coglione Che gioca con la Play Comunque ragazzi Parte di scherzi Volevo Dirvi che L'uscita dei videi Whatsapp Non rompere le palle L'uscita dei videi Sarà Un po' Casaccio Cioè Oddio Non a casaccio Che Sapete che io C'ho questo metodo Di registrazione Che Mi fa un mazzo Di carte Così Quindi Veramente Non ci riesco E Madonna Mi leggo le mani Così voglio vedere Se ne muovo ancora E allora Quindi Madonna L'uscita dei videi Madonna Anche nello scorso video L'uscita dei videi Io cercherò Di farne uscire In un mio primo video Non so quale Avevo detto Che facevo Un po' di video Al giorno Ma ho detto Che era una cazzata Più grande Di me Quindi Ecco E quindi Praticamente Cioè Sono passati Cinque minuti E non ho fatto Un cazzo A parte dirvi Che inizierò La serie sulla play Che comunque Cioè Adesso c'è Una palla assurda Perché Cioè Devo registrare Wii Sport Che è sulla Wii Devo registrare Minecraft Che è sulla play E porca loca Poi Comunque Molto presto Dico Molto presto Inizierà una serie Su Donkey Kong Country Rattles Che me l'ha consigliato Uno di voi Adesso non mi ricordo Chi Non mi ricordo bene Chi Ma uno di voi Non mi ricordo bene Chi Madonna mia Non mi ricordo Proprio I vlog Non stanno uscendo Perché Un po' il problema Perché Col fatto che Il martedì Oggi Sto registrando Che sono le Sei e mezza Che cazzo dico C'è l'orologio In avanti di cinque minuti Ma va E vabbè Sei stronzo E quindi Sì E poi Il più Devo andare Il compleanno Di Darkin 012 Perché In teoria Farò un cazzeggio Non so Se bene Se lo faccio L'ho fatto Al compleanno Di Gold Datevi vedere Il video Cazzeggio Con Gold Farò Un video Cazzeggio Con Darkin Perché Non so Comunque In questo periodo Stanno uscendo Molti più video Quindi appena Caricherò questo Aspetterò La mezz'oretta circa Buona Andrò al compleanno Di sì Che tra l'altro Non vi spoiler I nomi Darkin 012 Si chiama Simone E Quindi Per il semplice motivo Che mi ha copiato Perché ha detto Albit è un 13 Nel nome Nel nome Porca loca Nome Nome Albitredici Cognome Pinco Pallino No non è vero E comunque Sì Sto iniziando Gameplay Ovviamente Il metodo Di registrazione Che è Praticamente Inquadrare La tv Capite che Il mio cerchio È la tv E Ecco Capite che È scomodo Però comunque Il gameplay Io lo registro Lo stesso In questo periodo Stavo dicendo Che Inizieranno A uscire Un po' più vidi Perché con il fatto Che Inizieranno Serie Allora ragazzi L'uscita Di WeSport Non so se Me l'avevo già detto In avviso importante Hashtag 4 Comunque ragazzi Doveva essere Avviso importante 3 Ma Mi sono confuso E quindi ragazzi Mi sa che per questo video È tutto Vi ho spoilerato Vi ho spoilerato Un po' di cose Tra virgolette E Quindi sì Farò il canseggio Con Darkim Appena Posso Poto Poto Posso E Come un bambino Sdentegato Poto Poi Non so Domani Forse anche Dopodomani Inizierò la serie Su Donkey Kong Country Retro Ovviamente Cioè Per ci stare Alla tv Pochi youtuber Lo sanno fare Io sono uno Di quei mongoloidi Il primo Il primo Tra tutti i mongoloidi Il mongoloide Della community Italiana Di youtube Alzi la mano E Vabbè Comunque Questo video è tutto Ditemi Qualche altro Gioco Magari da mettere In pratica Sulla Wii O sulla play Non lo so Non scrivetemi Assassin's Creed Call of Duty No perché muoio Cioè Io non faccio Un episodio Che sto vivo Ragazzi Ecco E quindi Per questo episodio È tutto Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Dove fare una visita Devo prendermi qualcosa In farmacia Ma Laura Ah ma ci sei? Brrrr Vabbè Niente Ciao Boh